ehi 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 ha successo un casino ragazzi, ha successo un casino, queste belle donne sono state violentamente amassate da un serial killer ragazzi, attenzione, Marta Castano, 65enne, uccisa a Prati una donna solare che pendeva casa e viveva per la figlia, poverina, Marta Castano che è stata uccisa con una colterlata alla gola da un sega il killer, che molto probabilmente poco prima ha ucciso altre due donne. Ecco, vediamo la ricostruzione dei fatti ragazzi, qui c'è un disegnino per i mongoloidi. Allora, qui c'è Trashadu che ha fatto il killer, l'automatico killer. Forse è controllato mentalmente dal sistema stesso che poi userà queste notizie per passare leggi più ferrere per noi paywall. Ecco, qui a Roma, ci troviamo qua paywall, capito? Siamo qua, qui due donne cinesi che sono queste qua, Jing e Chang qua, appare, appare perché non si sa un cazzo qua, potrebbe essere tutto inventato qua. Per passare poi leggi contro l'uomo, oppure giusto anche per terrorizzare le pecore, no? La donna vede l'uomo come un serial killer e, insomma, si separano, non fanno più figli le pecore in questo modo, no? Però i motivi sono tanti, molteplici, il livello. Vediamo questa bella donna, ragazzi, aspettate, aspettate, perché questa è la cosa che mi ha fatto fare il video, questo. Aveva 65 anni e veniva dalla Colombia, vediamo, 195 mongoli hanno condiviso. Allora, Marta aveva 65 anni, viveva in Italia da diverso tempo e lavorava come escort, ma poverina, lavorava. Nel suo appartamento in via Turazzo, Turazzo, dove sono nato io, nel quartiere Prati. Beh, un quartiere Prati, ragazzi, soldi appalati, è un quartiere ricco di Roma, ben voluta da tutti i vicini. Quindi, pensate, fai la mignotta oggi o sei ben voluta. In altri tempi, magari, venivi vista un po' male, ma oggi, perché la pecore deve essere distrutta, queste cose, la distruzione viene vista come una cosa bella. ben voluta da tutta la pecore da merda, come ben voluti, sono tutti i rettili che le pecore amano, non quando vedono le tv, i rettili schifosi. Sì, volevo far vedere una foto qua, ma ho paura, poi vedo, vedete altre cose. che la ricordano, la ricordano come una persona gentile e solare, marcatta, questa mia vacazzi, tutto il giorno. Marta Castano aveva una famiglia, sì, una famiglia, una figlia di 18 anni. Secondo quanto riportava dalla Repubblica, la donna lavorava per non farle mancare. Alla pecore, non deve mancare nulla, cazzo, nulla. Ci chiedono di prendere il succo magico, e dobbiamo prenderlo, cazzo, perché non ci deve mancare nulla, cazzo. La sorella della donna, donna, insomma, non lo so io, cos'è sta cosa, comunque. La sorella della donna, che passava spesso a trovarla, ed era andata da lei, prima che si consumasse il delitto, ha dichiarato all'incorrente che è morta, in arte, ieseina. Ieseina. Ieseina, come cazzo. Quella mattina stava aspettando un cliente, poverina. Era lì che, insomma, faticava per tirare fuori la pagnota, poverina. Sarebbe stata lei la prima a essere uccisa dal killer. Per gli investigatori, infatti, chi ha ucciso lei e le altre due donne, nella vicina, via, ripoti, era stessa persona, porca puttana. Allora, due sono le cose. O il sistema inventa totalmente queste notizie, non sono vere, perché poi le deve usare per creare, insomma, un mondo bellissimo che ci aspetta, piano piano. Oppure, queste effettivamente sono state uccise, ma indirettamente, ma dal sistema stesso. Cioè, il sistema programma mentalmente una pegora che va e uccide queste persone. Queste sono tecniche di controllo mentale che, insomma, questi retti li hanno usato da anni con noi. Quindi immaginate se queste cose le facevano negli anni 50 e 60. Pensa alla tecnologia che hanno per controllare una pecora e fargli fare questa cosa qua. Le pecore sono terrorizzate quando sentono queste notizie. Passano leggi che, insomma, limiteranno la tua libertà a pegora. Ma nel frattempo è bello anche semplicemente vedere quello che è normale oggi, no? Cioè, viveva per non farle mancare nulla. Cioè, lei faceva la mignotta viveva dal quartiere Prati che chissà quanto pagava d'affitto lì perché è un quartiere per ricconi. E lo faceva per non far mancare nulla alla figlia. Cioè, è indicativo, insomma, dei tempi nei quali viviamo anche questa cosa qua. Cioè, che per non far mancare le cose materiali la pecore è disposta a farsi iniettare, a prendere letteralmente, o non letteralmente, i cazzi, pur di non farsi mancare nulla, pur di essere così. Quando vado in giro, guarda, questa la vedi in giro, sembra una persona così. Io vomito, diciamo, quando vedo robe così, perché so che, anche se non fai la mignotta, oggi fai la mignotta, perché qualsiasi lavoro oggi è prostituzione. I soldi e questi oggetti qua, ce li hai solo se lavori bene per Satana. Ok? Altrimenti non hai tutto questo. E quindi, qual è la cosa? La cosa è, insomma, più sei, insomma, una persona indemoniata, più cose estreme farai per avere questo, questa finzione qua, questo orrore qua. Io quando vedo roba così, in giro, io vomito. Perché dico, minchia, i cazzi che ha dovuto succhiare per fare questo, ma non letteralmente come faceva questa, semmai fosse vera questa notizia, ma anche, non letteralmente, i cazzi che si prendono a lavoro tutti i giorni, che prendete a lavoro tutti i giorni per mantenere la vostra bella vita ricca. Siamo tutti prostitute. e all that happy note, we salute you, God bless you, come ti chiamo, Bill Cooper.